Ciao a tutti, in questo video voglio spiegarti i 5 tipi di personalità narcisistiche, conoscerli e proteggersi da loro. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere diversi livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate, videoregistrazioni, seminari dal vivo, abbonamento Master Consulting con in più una consulenza telefonica. Allora, stiamo parlando di narcisisti e cercheremo di capire quali sono più in dettaglio diciamo le personalità narcisistiche, soprattutto le modalità con cui si rapportano. questo per riuscire a conoscerle, per riuscire a comprenderle e per riuscire diciamo quindi a evitarle insomma. Se le conosci le eviti, se le eviti non ti uccidono, questo diceva qualcuno. E quindi quali sono questi comportamenti diciamo di queste 5 personalità narcisistiche? Allora, intanto c'è da dire che i narcisisti, al di là diciamo proprio della classificazione, che oggi vorrò fare una classificazione più che altro comportamentale, no? Possono essere overt o covert, cioè nascosti o manifesti, tra quelli manifesti troviamo gli streonici e poi i covert sono invece quelli che sono poco manifesti, cioè tendono a far vivere senso di colpa, tengono un basso profilo. Poi vi sono narcisisti maligni che invece diciamo possono essere di un tipo o dell'altro, ma che non hanno soltanto l'interesse, come dire, narcisistico del controllo, ma hanno proprio, come dire, un sadismo di fatto, per cui cercano di danneggiare le persone anche proprio da un punto di vista di distruzione psicologica, finanziaria. Ecco, queste va bene, sono le classificazioni tipiche, ma come fare a riconoscere i narcisisti? Allora, vediamo, la prima tipologia comportamentale è quello che sa tutto. Tenderà a dare la sua opinione su tutto, anche se nessuno gliela chiede. Ha sempre bisogno di essere ascoltato e notato. Non ti ascolta perché è troppo concentrato su di lui. Ecco, quando incontri una persona che si comporta in questo modo, tieni presente che devi allontanarti, perché hai a che fare con un narcisista, per cui cerca in qualche modo di togliertelo dai piedi, perché non ti darà nessun beneficio continuare a rimanere a contatto con una persona del genere. Ecco, quindi questo è un punto fondamentale che devi prendere in considerazione. Quando incontri una persona di questo tipo, sappi che hai a che fare con un narcisista e devi togliere dai piedi. Il secondo tipo è il manipolatore, diciamo così, che è un narcisista manipolatore, in realtà sono tutti manipolatori, che utilizza più un atteggiamento seduttivo, diciamo. Quindi, queste sono anche, molte donne hanno queste caratteristiche, cercano di sedurre proprio attraverso la fisicità. Anche molti uomini che hanno, magari, sono, piacciono, sono uomini molto attraenti, molto belli, insomma, dei maci, o le donne molto femminili, quindi molto, molto belle. Quindi queste buttano su una seduzione, diciamo, di tipo fisico anche, e nel momento in cui ti avrà sedotto o sedotta, cambierà persona, diciamo, si allontanerà. E quindi tu resterai agganciato, agganciato. Quindi, occhio che quando ci sono persone che subito entrano in modo molto seduttivo, anche da un punto di vista fisico, beh, renditi conto che potrebbero essere narcisisti, soprattutto se sono anche, tendono a povoneggiarsi, tendono a essere, manifestarsi come, tra virgolette, il più bello del mondo. Poi c'è il tipo che invece cerca di svalutare. Entra in modo svalutante, cerca di proporsi o di farti sentire che è superiore, che è più forte. Chi tendenzialmente sono un po' arroganti, anche nell'ambito del lavoro, si trovano personaggi del genere. Quando hai a che fare con personaggi del genere è meglio che li lasci perdere, perché dietro a queste tipologie è veramente facile che si nasconda una personalità narcisista. E poi ci sono il quarto tipo, è quello che si presenta come il salvatore, cioè o la salvatrice. Quello che si sente superiore a te e si presenta come quello che sarà indispensabile nella tua vita. Che ti aiuterà in questo? Che ti aiuterà in quello? Che farà questo? Che farà quello? Occhio che quando si presenta un salvatore, beh, è probabile che ci possano essere delle situazioni in cui di fatto più che salvatore è uno che alla fine ti porterà solamente danni. E questa è una caratteristica tipica proprio di persone narcisiste che si presentano come se fossero, essere una superiorità intrinseca. E poi abbiamo il distruttore, diciamo, colui che distrugge. Se non vai nella sua direzione gli genera un problema. E quindi può arrivare, diciamo, talvolta anche a metodi coercitivi. Questo è, diciamo, da tenere presente. E se vuoi utilizzare, diciamo, devi stare attenta perché ci sono situazioni che ti possono generare problematiche da questo punto di vista. Quindi distruttori, tra virgolette, vanno presi in considerazione e tenuti comunque in disparte. Ma tutte queste tipologie devi tenerle presente. Bene, per questo video è tutto. Spero ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonandoti potrai scegliere tra diversi livelli di abbonamento. Abbonamento live per partecipare alle live. Abbonamento base con lezioni mirate. Abbonamento top con lezioni mirate e video registrazioni seminari dal vivo. Abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Inoltre ti ricordo che se ti iscrivi a tutti e quattro i miei canali entri a far parte della più grande community europea, italiana diciamo, speriamo europea, sulla seduzione e la crescita personale e potrai quindi gratuitamente, diciamo, entrare a far parte di gruppi dove conoscere nuove persone piacevoli con le quali interagire. Bene, per questo video è tutto. Ciao!